Ciao bimbi, come state bene? Oggi parleremo della nostra lettera Q, Q come quaderno, va bene bimbi? Q come quaderno, Q come quadrifoglio, Q come quadrifoglio, ok? Come sempre vi farò vedere come scriveremo la nostra lettera Q, va bene? Siamo pronti? Prendiamo i nostri fogli colorati oppure bianchi, i nostri pennarelli o un pennello, ok? E iniziamo a scrivere 1, 2, 3. Allora, vi faccio vedere la lettera Q. Allora, è simile come la lettera O, però poi alla fine dobbiamo mettere una langetta di sotto, quindi faremo un cerchio così. E una langetta di sotto, vi faccio vedere. Un cerchio e una langetta di sotto, ok bimbi? Di nuovo. Un cerchio e una langetta di sotto. E abbiamo realizzato la lettera Q, Q come quaderno, Q come quadrifoglio, ok bimbi? Ora vi leggerò il nostro libro, l'alfabeto ingandato, Q come quaderno, questo è il quaderno bimbi. Ti regalo i miei pensieri, ma sono tutti perfetti. E rimangono invegliati nella pagina a quadretti. Cimitero degli errori, con le croci rosse e blu. Ma disegno anche due cuori, la tristezza non c'è più. Ok bambini, grazie mille e ci vediamo alla prossima. Un bacio! Grazie mille e ci vediamo alla prossima.